Allegri è la frase a Inzaghi di Inter e Juve, e una. La tensione di una partita come quella tra Inter e Juve è sempre tanta. Figuriamoci in una semifinale di Coppa Italia. Allegri però prima della partita l'ha voluta stemperare con una frase detta all'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi. Inter e Juve, la frase di Allegri a Inzaghi come di consueto è andato a salutare l'allenatore ex Lazio con il quale si è complimentato per l'ottimo cammino in Champions League, bravo anche in Champions. Queste le parole lette dalla Biale di Allegri prima del fischio d'inizio della partita. Inzaghi poi nel post partita ai microfoni di Mediaset ha confermato il tutto, mi ha fatto i complimenti per l'approdo in semifinale di Champions. Ci incontriamo da anni e c'è tanto rispetto reciproco. Virgola.